Exoraptics, stai cercando un crossover versatile e divertente? Fiat 500X, 1000 di cilindrata, 120 cavalli, allestimento cross, scopriamola insieme! Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale immatricolato nel 2019 che ha percorso poco meno di 50.000 km e che è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test dei 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Alimentazione benzina per un consumo di 5,8 litri ogni 100 km. Super elegante in questo grigio argento con vetri posteriori e lunotto privacy glass a garantire privacy e protezione dai raggi solari. Barre al tetto e iconico è il frontale Fiat. Con il gruppo ostico anteriore rotondeggiante e il doppio baffo cromato a incorniciare il logo del brand. I circhi sono in lega da 17 pollici multirazza, cromati e nero opaco e il battistrada in splendide condizioni. Il bagagliaio è dotato di ruota di scorta ed è molto capiente e ben sagomato. Luce alogena di cortesia sulla sinistra parte da una capienza di 350 litri che abbattendo le sedute posteriori che sono frazionabili 60-40 arrivano quasi a triplicare. Nonostante l'assetto rialzato è agevolissimo accedere all'abitacolo grazie all'ampio angolo di apertura delle portiere. A bordo troviamo tantissimo comfort, comodità, spaziosità e luminosità grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. Le sedute sono in similpelle e tessuto dotate di attacchi isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. 47.100 sono i chilometri percorsi, la plancia è molto curata e di design con la palpebra lucida a riprendere il colore della carrozzeria e dotata di tutta la tecnologia di cui abbiamo bisogno. La parte centrale del quadro strumenti è interamente digitale. Il volante ha tre razze con inserti cromati con numerosissimi tasti a disposizione tra cui il comando vocale per la gestione delle telefonate e la cruise control con limitatori di velocità. Dal display invece possiamo gestire tutto l'infotainment. Dalla radio, DAB, possiamo accedere ai media, alla navigazione, alla app Uconnect, connettere il nostro smartphone e accedere a tutte le impostazioni di setup della vettura. Inferiormente troviamo le bocchette dell'ariazione e il clima che è automatico e bizona. Doppia presa USB, ingresso AUX presa da 12V, vano portaoggetti con antiscivolo, il cambio è manuale a 6 rapporti, il freno di stazionamento elettrico, doppio porta bibite e un vano portaoggetti. Ancora più ergonomiche, avvolgenti e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale e supporto lombare. Retrocamera e sensori di parcheggio inserendo la retro per parcheggi no stress. Corri subito sul nostro sito rattiauto.com dove potrai riservare la tua auto senza impegno per 7 giorni con soli 100 euro e potrai prenotare una video call con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e garanzia europea garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto!